bello a tutti ragazzi sono fravi j non è vero comunque siamo già in battaglia su boom beach front lines boom beach front lines oggi siamo su boom beach front lines perché ho visto che le visual di clash royale sono calate e oggi andiamo a provare zuka per la prima volta vediamo un po questa è la prima volta che lo provo anch'io no questo è tipo il cecchino no raga non facciamo prendere b però prendono a questo ricarica no si spara un razzo alla volta e poi deve ricaricare non lo so se mi piace per ora lo vedo abbastanza male cioè sarebbe un 70 per cento 9 un 30 per cento si per la vita più che altro perché ce n'è abbastanza uno ti deve un po nascondere dietro a taipei scusate forse non era proprio la frase ideale in questo periodo però madonna già ci hanno scassato il mondo questi è ora di prendersi l'auto blindo altro che mega critter l'auto blindo fa un danno della madonna abbiamo perso b ma lo recuperiamo all'istante proprio con due auto blindi in circolazione l'avete proprio ottima ok mi faccio un po indietro per abbattere questo mega critter l'auto blindo è fenomenale raga sti piccoli critter fanno un danno della madonna allora 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 ma perché non tanto gira bene questo comunque si va alla difesa di b oh devo ricaricare questo per fortuna ricarica tutti i colpi in una volta sola nooo ma che sto da fa' sto mega critter io non l'avevo visto non l'avevo visto proprio il mega critter raga aia sto astro laser fa male proprio ok per fortuna è morto però aia non avevo ricaricato non ce l'abbiamo fatta comunque eh la vedo dura perché se non ci sbrighiamo adesso no siamo morti no che è sto esercito qua oh già mi hanno annientato madonna l'esercito madonna l'esercito è arrivato mega critter subito no clicchiamo B per mandare alla difesa ok questi devono morire lo so che c'è un mega blindo dietro là ma che cazzo ho detto non mi ricordo come si chiamava comunque il mio preferito è l'assaltatore ma fa un dubbio il mega blindo ehm come si chiama autoblindo questi non ci stanno attaccando perché tanto sanno che nello spareggio vincono quindi non converrebbe neanche più di tanto attenzione però che stiamo verso A verso A verso A verso A corro verso A vediamo di fare qualcosa lo so che sto in mezzo alle mitragliatrici e mi hanno tolto 3000 di vita in due secondi e abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso 528 di XP di livello si sale subito è di lega che ci vuole un bel po' comunque siamo sempre a pietra 1 e procediamo alla prossima battaglia speriamo di vincerla sempre di assaltatore ci vado e mi prendo il mega critter ci sta ragazzi il mega critter è buono questo c'ha l'attacco aereo l'ha fatto apposta però è uscito un po' male come cosa io avevo visto uno sparo di cecchino però è morto e eccoli qua queste sono le battaglie che voglio io molto combattute ok qua mi sfondano fanno male fanno male parecchio fanno male pure il cecchino là dietro attenzione all'attacco aereo nemico quanto pare abbiamo sgomiato abbastanza nemici non sono riuscito neanche a ammazzare quel cecchino prendo sia le recluse no non posso non ho abbastanza soldi ok io se vado qua attivo le recluse metto a sparare e mi volevo coprire dietro le recluse però proteggiamo B non riesco a prendere quel cecchino è convenuto fare così prendo l'auto blindo e sarà bloccato l'auto blindo attenzione all'attacco aereo nemico vabbè ma proprio è nientato l'auto blindo al 6 attenzione sai pure questa chissà pure questa io la vedo abbastanza male mo andiamo in overtime poi dobbiamo solo sperare nello spareggio però io vedo che la battaglia comunque si sta avvicinando chissà mo sta l'auto blindo si è rotto ai 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 questa mi ho fatto male assai ma le recluse mi hanno to' l'auto blindo me prendo l'insaltatore prendo il megacritter e siamo morti perfetto e ormai non conviene più abbiamo perso perfetto abbiamo perso tutto quindi io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale abbiamo perso tutto oggi noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao